Gentili telespettatori, buona giornata, rassegna stampa di oggi, mercoledì 6 settembre 2023. Corriere della Sera, manovra spunta anche il bonus benzina, i partiti chiedono 40 miliardi, ce ne sono 8,5, quindi c'era chi pensava che ce n'erano 15 ed era ottimista. Poi problemi nella maggioranza sulla soglia minima alle elezioni europee, e poi vediamo che il problema è proprio quello dei conti, perché i soldi non ci sono, promesse elettorali tante, truffe ai danni dello Stato, super bonus, bonus facciate, poi c'è il patto di stabilità, 40 miliardi, ma lì dentro non ci hanno messo i 15 miliardi del ponte sullo stretto, sono 55 miliardi e ce ne sono 8,5. Andiamo a vedere adesso la Repubblica. La Repubblica che vediamo, scusate, ma vediamo se si apre. Il vertice della discordia, la manovra, Gualtieri, il super bonus era giusto ma doveva finire nel 2021. Bravo Gualtieri, tra un sacchetto di spazzatura e l'altra hai detto una roba giusta. Il super bonus doveva essere uno spot di breve tempo, prolungarlo fino al 2023 sta portando a un buco nelle casse dello Stato di 140 miliardi. Quindi ha sbagliato chi lo ha inventato, ma ha sbagliato dopo chi l'ha portato avanti. Attenzione, parliamoci chiaro, non stiamo qui a pettinare le bambole o a far ballare la scimmia. E adesso andiamo a vedere il video prima dello schianto, quando dico treno andate da quella parte, spostatevi, mamma mia. Pensare che questa è la sicurezza di quelli che lavorano sui binari. Vi faccio un fischio, quando arriva il treno voi spostatevi, roba da incredibile, incredibile. Amato dice a Macron chiedo verità sulla base di Solenzara. Allora, che cosa è successo? Che questo giornale, La Repubblica, ha scritto due giorni fa, titoloni giganteschi, Amato, Macron chieda scusa. E Amato dice, ma io non ho mai detto alla Repubblica, nell'intervista, che Macron debba chiedere scusa, perché sarei uno sciocco a dire una roba del genere. Non l'ho mai detta. Erano solo delle mie opinioni personali. Però la Repubblica aveva messo, tra virgolette, e tra virgolette vuol dire che sono le dichiarazioni esatte dell'ex politico, Amato, che diceva che Macron chieda scusa, ma Amato non l'aveva mai detto. Ovviamente l'intento era quello di creare un caso diplomatico con Macron, gli Stati Uniti e la Nato per mettere in difficoltà il governo. Ma andiamo avanti. La stampa. La stampa titola Andiamo adesso a vedere Libero Quotidiano Che titola Non vogliono la polizia, la lotta alla camorra, indigna, PD e Saviano Il segnale del Viminale a Caivano 400 agenti setacciano i palazzi, idem Non si bonificano le persone Lo scrittore di Gomorra parla di sceneggiata napoletana Dieci anni di stipendia da generale Grazie al libro Vannacci ha incassato non meno di 600 euro in quasi un mese Immaginatevi il libro dopo un anno quanto avrà fatto incassare al generale Ma posso dirvi solo buon per lui Ecco, nessuna invidia ma buon per lui E poi andiamo a vedere il piano verde per l'Africa pagato con i nostri soldi L'ultima ideona dell'Unione Europea Amato in ritirata il blitz su Ustica finisce in farsa Ritratta e si confonde E la Repubblica poi, come vi ho detto prima Mette dei virgolettati facendo dire ad Amato Quello che Amato non ha mai detto E poi andiamo a vedere Dopo Ustica Amato riapre pure la strage di Bologna L'ex premier rilancia le accuse a Parigi per il 19 abbattuto Dopo il 1980 all'Orlandi Troppe verità incomplete Superbonus complica la manovra Caccia a nuove risorse dalle rendite Meloni cena con i parlamentari Fratelli d'Italia Evitare assalti alla legge di bilancio Su intercettazioni CSM, abuso i giudici e opposizione sulle barricate Ma andiamo a vedere il Fatto Quotidiano Che titola? Uno su cento ce la fa Senza reddito parte la piattaforma del governo Lavori precari e solo al nord A sud poche centinaia di offerte per centomila famiglie Beh, negli anni 60, negli anni 70 Dal sud emigravano al nord per il lavoro Oggi nessuno è più disposto a fare neanche 10 km da casa Il lavoro a volte purtroppo è sacrificio Soprattutto anche per quelle persone che hanno delle qualifiche basse E purtroppo sono costretti a spostarsi anche di regione Per avere un lavoro anche semplice Andiamo avanti Vediamo la verità Che dice I documenti shock degli ecotepisti Prepariamoci al salto di qualità Esclusiva di fuori dal coro in onda stasera Reportage dall'interno di ultima generazione Gli attivisti che bloccano le strade Si predica il superamento del gradualismo E una postura rivoluzionaria Intensificando le azioni di protesta E per chi è fedele Arriva un compenso fisso fino a 800 euro Fondi cinema, petrolieri, finanziatori e network internazionali Dietro le brigate verdi E poi andiamo a vedere Ursula vuole conquistare l'Africa Colpi di leggi Green Andiamo adesso a vedere Il tempo Che è quello di ieri Purtroppo non è quello nuovo Rimpatri per gli stranieri in cella Emergenza carceri Andiamo a vedere Il messaggero Intesa sulla manovra sobria Passiamo al Sole 24 ore Che titola Lavoro Il 48% dei posti Resta scoperto 1 su 5 Occupato da Stranieri Ma questi posti di lavoro Che rimangono vuoti Sono lavori specializzati Manca proprio Mancano proprio le persone In questo caso Bolletta del gas Prezzi su del 2,3% Per i consumi di agosto Super bonus Da finire nei condomini Lavori per 12 miliardi di euro Andiamo avanti Vediamo adesso Il mattino di Napoli Blizza Caivano Primo passo Intervista al ministro Piantedosi Stato sempre più presente Con risposte anche sul piano sociale Dobbiamo offrire più opportunità ai giovani Una priorità Il contrasto Alle occupazioni Abusive Napoli si ferma Per l'addio a Gio Gio Manovra Ok ai fondi Per i redditi bassi Sgravi per 10 miliardi Andiamo a vedere adesso Andiamo a vedere Il gazzettino Autovelox Indagati due vigili urbani Venezia C'è la tassa di accesso Ok della giunta In via Primavera 2024 5 euro a persona Per entrare a Venezia E poi Andiamo a vedere Il secolo XIX Brandizzo Il video Verità Girato da un operaio Prima del disastro Si sente una voce Se dico treno Andate da quella Parte L'ambulanza non passa Salvato al telefono Grazie a tutti E arrivederci A presto